Il servizio del trasporto pubblico in Toscana è promosso con un 7 in pagella per l'urbano che diventa addirittura un 8 per l'extraurbano. A certificarlo è l'indagine effettuata tra marzo e aprile, quindi in pieno periodo scolastico, su un campione di Toscani 7.600 le interviste per il servizio urbano e 5.000 per l'extraurbano. Un voto più alto di quello ottenuto lo scorso anno. L'indagine è annuale e indipendente, così come è previsto dalla legge. Si tratta di una media tra le varie questioni sottoposte all'utente, va meglio la cortesia del personale meno l'accessibilità alle fermate. Per i normali utilizzatori del mezzo pubblico, spesso costretti a lunghe attese o ad assistere al salto della corsa, sport molto in voga soprattutto a Firenze, sono comunque numeri che potrebbero far rezzare i capelli in testa. Eppure anche Firenze e Prato hanno una media di voti superiore al 7. Ciò detto, Autoline nel presentare l'indagine non si nasconde dietro ai numeri e alla soddisfazione. I disservizi ci sono e ne sono consapevoli, spiegano. E ribadiscono che ci vorrà ancora un po' affinché i frutti di ciò che stanno seminando arrivino anche alla percezione dell'utente. I motivi sono sempre i soliti, ma li ribadiscono. Intanto il parco mezzi, che è in via di sostituzione. Porteremo qualcosa come oltre 900 busse nuove in termini dei prossimi due anni che cambieranno totalmente la percezione del servizio. Sarà quello il vero salto di qualità che faremo. Contemporaneamente abbiamo lavorato, come sapete, soprattutto sull'altro versante che è quello che ci faceva e ci fa in parte ancora oggi saltare turni, che riguarda il personale. Autolinea si è inventata investendo circa 20.000 euro ad Autista, un'accademia nella quale forma i futuri dipendenti, pagandogli anche la costosissima patente D. Sono circa 4.000 euro. E questo gli ha consentito di risalire un po' la china rispetto alla situazione di meno 350 con la quale erano partiti, ma non basta. Capitolo quasi a parte è Firenze, dove i cantieri della tramvia influiscono, e non poco, sui ritardi. Tanto è vero che a partire dalla prossima settimana alcuni tragitti saranno modificati. Verranno ridefiniti i tempi di percorrenza di tutte le linee interessate alla canterizzazione ed entreranno in servizio ulteriori conducenti di riserva nei percorsi che registrano i maggiori ritardi.